Hai mai notato che quando vengono lanciati i missili per aria cadono sempre a terra? Ti ho fatto questa piccola introduzione per dirti solo che ci hanno sempre raccontato che siamo andati sulla Luna, ma questo non è vero e io adesso te lo dimostro, perché se un missile va a sfondare la copertura terrestre tutti i diartriti dello spazio andrebbero al suo interno e quindi sarebbe una catastrofe. Quindi, come puoi vedere nel grafico, non può succedere una cosa del genere, perché è la fine. E ti faccio vedere anche le navi che la terra è piatta e te lo dimostro con questo altro grafico che vedete questa nave che è andato verso la fine, vedete che sfonda e cade giù, quindi non può, la terra è piatta, quindi si può stare solo nel perimetro che abbiamo e questo dimostra che la terra è piatta e comunque i missili non possono saltare in aria. La cosa principale, la più schiacciante, quando vedete adesso gli astronauti che hanno tra virgolette atterrato sulla Luna, vedete la bandiera, come si muove, se nello spazio non c'è atmosfera, come fa a muoversi la bandiera? Quindi sono riprese cinematografiche, hanno fatto una specie di show per far vedere che siamo andati sulla Luna, su Marte, ma non siamo andati in nessuna parte, perché non si può uscire dalla terra, è impossibile, quindi siamo tutti qua e non possiamo uscirne fuori. E lo dimostra il fatto che comunque non si può muovere, non c'è vento, dicono che poi anche lì è da vedere se c'è vento o no. Grazie a questo semplice trucco che ti ho appena svegliato, ora sì che ti puoi mandare con i tuoi amici della NASA.